One Step è l'ultima novità American Nails nel campo dello smalto semi-permanente. L'innovativa linea di smalti gel veloce e facile da applicare. One Step è dedicato a coloro che cercano la comodità in un solo prodotto. Nessuna base, nessun top. Basterà una sola stesura di smalto One Step per ottenere un risultato professionale e perfetto. Per un'igiene più profonda, vaporizziamo Hygienic Speed, massaggiando accuratamente. Hygienic Speed potrà essere utilizzato anche come antibatterico per gli strumenti di lavoro. Per ammorbidire le cuticole, applichiamo Cuticle Remover, facendo agire il prodotto per alcuni secondi. Procediamo spingendole in maniera accurata e delicata. Eliminiamo poi il prodotto in eccesso con un nail pad asciutto. Con la lima Luna Grana 180 diamo la forma desiderata all'unghia. Successivamente, opacizziamo la superficie con il buffer o mattoncino Grana 240. Per evitare sollevamenti, è importante insistere sul perimetro dell'unghia. Stendiamo uno strato sottile di One Step, rimanendo distanti un millimetro dalle cuticole. Per evitare scollamenti, è importante applicare il colore bene in punta. Lasciamo polimerizzare in lampada UV per due minuti o in lampada LED per un minuto. Per rendere il colore più intenso ed omogeneo, applichiamo un secondo strato e polimerizziamo in lampada UV per due minuti o in lampada LED per un minuto. Terminiamo applicando qualche goccia Cuticle Oil sulle cuticole e massaggiamo per reidratarle. Non sarà necessario sgrassare One Step, né applicare un top coat. One Step, il tuo smalto semipermanente perfetto in una sola applicazione. Grazie a tutti.